Ok, questo è il titolo della lezione di oggi e registrerò la lezione quindi guardando in camera, però poi allarghiamo anche l'argomento a altri argomenti, non perché oggi dobbiamo solo parlare di questo. Oggi parliamo di un argomento, una domanda che mi fanno spesso, il caso di pazienti per esempio che non hanno perduto tutti i denti, i pazienti che hanno ancora molti denti in bocca che devono solo fare delle terapie parziali, quelle che noi richiamiamo casi misti, riabilitazioni miste. Sono quei casi che presentano delle criticità in più che vedremo durante appunto questa chiacchierata e il titolo è ristrutturare costa di più che radere al suolo e fare tutto da capo? Qual è la risposta? Sì. E perché costa di più ristrutturare? Perché dopo quello che hai fatto devi buttare. Più difficile, ti costa di più sia quando lo fai che poi se vai a tenere conto anche poi di tutto il ciclo di vita della bocca, a fine devi anche vedere quanto hai speso negli anni pure per mantenere tutta questo, dire il vero costa di più il paziente che deve togliere tutti i denti perché più delle volte ha speso anche tanti altri soldi prima di arrivare qua. Ha fatto molti impianti, ha fatto molti ponti, ha impianti che sono falliti, si trova in stadio di chirurgia terziaria quando devi anche reintervenire su reinterventi e allora devi utilizzare degli impianti, delle tecniche che sono ancora più complesse, dove hai meno margini anche di manovra se vogliamo. Poi abbiamo invece quei casi di pazienti che arrivano qua da noi che devono fare dei casi di riabilitazione che sembrerebbero semplici, ovvero che devono mettere pochi denti, però viene fuori un preventivo alto, possiamo dire. Preventivo alto significa che intervenire costa molto e quel preventivo è il riflesso poi di un dettaglio di lavori che devono essere eseguiti, che sono molti lavori di diversa natura che devono essere eseguiti e in più abbiamo anche dei lavori che sono singolarmente con un rischio di fallimento cumulato maggiore. Cosa intendo per il rischio cumulato? Che se io faccio solo due tipi di intervento all'interno della bocca, ciò che ne so, il rischio di fallimento degli impianti, più c'è il rischio di fallimento, di rotture dei denti, quelli artificiali che metto. Se invece devo fare anche ricostruzione dell'osso, è già un'altra tipologia di intervento. Devo devitalizzare dei denti, sono un altro tipo di intervento. Se poi ne devo devitalizzare 10 di denti, ogni intervento vale per sé. Significa che se ho una devitalizzazione che c'è il rischio del 10%, ne devitalizzo 10, c'è il 10% per 10 denti, che si somma poi all'1% di ogni impianto che metto e che si somma poi al rischio di avere problemi sulle protesi del 0,3% fino all'1% per il numero poi di denti che devo mettere. Vedete che da lì viene fuori che cosa? La complessità dell'intervento. E in più lavorare su una bocca che ha perduto pochi denti, è più difficile che lavorare su una bocca che ha perduto tutti i denti. Perché quando io ho piazza pulita, diciamo così, non ho più denti nella bocca, perché li devo tutti togliere perché il paziente ha avuto la piorrea oppure ha avuto un incidente stradale, un grosso trauma, oppure devo togliere impianti anche messi da altre kip. Io ho uno spazio libero, vuoto, è come se fosse una stanza vuota, posso decidere quali mobili comprare, io faccio il progetto, in un attimo li porto dentro alla stanza e li metto. Un conto è invece se ho anche dei mobili vecchi che devo restaurare, in più devo farmi fare su misura quelli che entrino in quello spazio. E c'ho alta probabilità che quelli vecchi magari ti siedi, si romperà, può capitare anche questo, che comunque vai a ristrutturare e non ha la performance, il dente ristrutturato magari di un dente vergine o un dente che è su impianto dentale. I denti devitalizzati sono per esempio come dei rami secchi, si stanno lì, però se ti cipogi quello si rompe, infatti si incapsulano i denti devitalizzati per questo, per evitare che si spacchino poi in due, masticando.